Queste fantastiche ballerine orientali! Bravissime! Bravissime! E allora invece adesso viene il nostro direttore artistico Mimodoria perché c'è anche un premio che assegna direttamente l'orchestra. Non ricordo il nome però. Non ricordo il nome, dica a me. Il chitarrista. Ah, eccolo qua. Signore e signori, il premio dell'orchestra va a Matteo Riccio! Dove stai? Eccolo qua. Beh, io direi che ci sono state veramente, io vi devo ringraziare a uno, a uno a uno, a voi perché veramente ci avete regalato stasera una grande esibizione perché altre parti per portare gente, per fare uno spettacolo hanno bisogno di nomi artisonanti e di personaggi. Qui a Recale, qui a L'Oscita del Baci i personaggi sono loro e sono veramente dei grandi personaggi. Facciamo un grande applauso a questa grande esposizione di talenti, di questa grande esposizione di ragazzi e di ragazze che hanno tanta voglia di esibiti, di mostrare il loro talento. Grazie. Non vi mette qui perché tra poco i tre finalisti. Ma fatemi fare un applauso a questa grande giuria. Io vi ringrazio, sono stato onorato di avervi qua stasera. È veramente un piacere avere alcune vecchie conoscenze come Pietro, come Franco, come il nostro amico Luigi. I nuovi nesti che hanno veramente dato lusso a questa grande giuria siete stati...